E oggi l'Assemblea dell'Unione Industriale di Prato che ha confermato alla Presidenza Andrea Cavicchi ed è stata anche questa la prima uscita ufficiale del Sindaco Biffoni. Le elezioni sono finite, le elezioni continuano, ma queste sono elezioni diverse. Infatti Andrea Cavicchi è stato oggi confermato Presidente dell'Unione Industriale Pratese. Una conferma che significa apprezzamento per il lavoro che ha fatto da parte di tutti i soci dell'Unione Industriale. Il tema di stasera dell'incontro che è poi seguito alla fase appunto dell'elezione dei nuovi vertici della Unione Industriale Prato la crescita che vogliamo, tracciabilità medine ed export e se ci pensate bene sono i temi in campo per la ripresa economica e anche per quel dialogo con l'Europa che adesso vede Renzi in pole position per essere una sorta di contraltare o comunque di compagno di viaggio della Merkel. Fra i presenti all'incontro dell'Unione Industriale di Prato anche Stefano Ricci, Presidente del Centro di Firenze per la Moda fra l'altro che ha mostrato negli ultimi anni un grande mecinatismo, un grande sconfinato amore per la propria città a cominciare dalla donazione dell'impianto di illuminazione per la loggia dei Lanzi e poi anche per Ponte Vecchio. Una serata in sostanza in cui si è parlato di imprenditoria, di economia, di voglia, di ripresa. Il Presidente Cavicchi ha riconfermato praticamente l'unanimità, la presenza della Vicepresidente di Confindustria e la battaglia sul Medin sono come dire un fil rouge che segna la sua continuità. Sì, è uno dei punti principali, è un po' a rischio però questa è l'occasione giusta. Abbiamo una forte espressione anche dai voti europei, quindi abbiamo anche un partito legato al Premier che ha dato una manifestazione forte di presenza anche come numero di parlamentari. Abbiamo un semestre europeo che potrà portare avanti questa, cioè dove avremo la presidenza del semestre europeo, quindi è l'occasione giusta per portare avanti questo progetto. La Lisa Ferrarini, Vicepresidente di Confindustria, con delega il Medin, ha tutta l'energia per portarla avanti. Io spero sia la volta buona, veramente. Sarebbe un grande passo di civiltà a livello europeo, sia per la tutela dei consumatori, per la salute e per le truffe. Sono contento, il lavoro era il tema su cui abbiamo incentrato tutta la nostra ampagna elettorale, veniamo in un luogo del lavoro, si parla di temi che interessano al sviluppo del territorio, è giusto esserci e mi fa piacere anche dal punto di vista simbolico che essere accanto alle nostre imprese sia la prima uscita da sindaco, ufficiale o non ufficiale, non ho ben capito, comunque mi fa piacere esserci, perché noi vogliamo davvero che l'ente locale stia accanto a queste realtà produttive, a tutti quelli che ancora insistono sul nostro territorio e tutte le scelte che potremo fare a vantaggio di chi dà lavoro, di chi crea ricchezza, qui saranno interessi e saranno lavoro del sindaco.